Musica Dalla sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA all'abrogazione della nuova flat tax, dall'unificazione di muettasi alla riduzione del cuneo fiscale sui lavoratori dipendenti. Sono alcune delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2020, una manovra che per il presidente di Confartigianato Imprese Prato, Luca Giusti, è frutto di una politica di contenimento e non di espansione e che rischia nel suo complesso di penalizzare il mondo delle imprese. Una manovra finanziaria veramente in chiaro scuro, ci sono aspetti che sicuramente non sono quelli che avremmo voluto vedere in questa manovra, in particolar modo la mancanza di risorse per quelle che potrebbero essere investimenti per lo sviluppo, per creare sviluppo nelle imprese, per creare nuovi posti di lavoro. Numerosi punti critici individuati da Confartigianato a partire dal rinvio dell'incremento delle aliquote IVA, un provvedimento che ha evitato sì l'aumento dei prezzi, ma ha finito per assorbire quasi tre quarti delle risorse della legge, ben 23 miliardi di euro, riduciando di fatto le misure a favore di sviluppo e competitività. Scarsa per l'associazione anche l'attenzione agli investimenti, bocciata infine la mancata riduzione della pressione fiscale. Sostanzialmente il cuneo fiscale, che è uno degli aspetti che ormai da decenni noi diciamo e chiediamo interventi su questo aspetto, ma che sono sempre stati promessi e mai attuati, per esempio quella che è stata già promessa anche nella legislatura precedente, e cioè il forfettario per alcune tipologie di attività e quindi avere una flat tax molto più agevolata per determinate imprese, che poi invece puntualmente nella manovra è stata abolita, per fare un esempio. Quindi noi pensiamo che questo tipo di provvedimenti, come quelli della grande mole di burocratizzazione che c'è negli adempimenti da parte delle aziende, siano i freni principali e siano aspetti sui quali ancora non è stato messo assolutamente mano, non è assolutamente un occhio per poter agevolare questa tipologia di problematiche. Tra le novità giudicate invece in modo positivo, l'introduzione del bonus facciate, gli incentivi per assunzione e formazione dei giovani e il ridimensionamento dello sconto diretto in fattura per interventi in edilizia. Giusti lancia infine un appello agli imprenditori affinché possano rafforzare ulteriormente il ruolo delle associazioni di categoria nella discussione col governo centrale. Quello che io dico a tutti gli imprenditori è che dovete dare modo a chi ha possibilità di confrontarsi con il governo, di far sentire la vostra voce, di far sentire il peso della loro rappresentatività. Per cui iscrivetevi, associatevi a qualunque associazione di rappresentanza, meglio ovviamente se è confartigianato, ma iscrivetevi a qualunque associazione perché è solo attraverso questi sistemi che si può pensare di intervenire sulle manovre finanziarie, sui provvedimenti in favore dello sviluppo delle imprese. Grazie a tutti.